10 milioni di euro però è un programma di sostituzione che parte da circa 10 anni fa. Avevamo avuto dei problemi con le imprese esecutrici, alcune sono fallite, alcune in antimafia. E altro problema sono i fondi regionali che erano andati in perenzione, quindi non erogavano fondi. Adesso siamo partiti con tre interventi via Francesco Tedesco, Valle e Contrada a Baccanico per una realizzazione di circa 83 alloggi per un importo di circa 10 milioni di euro. Contestualmente è partita anche la demolizione dell'ultimo prefabbricato pesante di Rione Parco in modo tale che con fondi comunali questo per la demolizione e penso che all'inizio dell'anno prossimo si appalteranno anche la parte finale delle sedre che si doveva realizzare a Contrada a Rione Parco per la realizzazione di altri 36 alloggi. Oltre questo dovrebbero partire a breve anche l'edificio 1, 2 e 5 di via Morelle e Silvati e la sostituzione dei prefabbricati di via Capozzi. Solo aspettiamo prima che finisce uno degli edifici di via Morelle e Silvati, il numero 1, in modo tale che gli occupanti di via Capozzi li spostiamo a via Morelle e Silvati e poi quindi partire anche con la sostituzione di via Capozzi. Fondi ci sono, alcune imperenzioni, alcuni cassa depositi e prestiti, però si può partire per questa parte finale della sostituzione edilizia. Oltre a questo è ripartito l'ultima ristrutturazione del contratto di quartiere Quattrograne Ovest, l'edificio numero 7, che per problemi di fondi non era stato terminato perché il Ministero ci dava l'ultimo 10% solo a collaudo delle opere e quindi l'ultima impresa è rimasta senza soldi. Quindi adesso abbiamo fatto un po' un'accelerazione, quindi è partito anche questa ristrutturazione e contestualmente con un piano di recupero urbano anche un altro edificio che non era rientrato negli 8 che si dovevano ristrutturare a Quattrograne Ovest è partito il numero 13, sempre con una realizzazione di 20 alloggi. In seguito a questo possiamo dire che per quanto riguarda i piani di recupero urbano sono partiti tre progetti a San Tommaso già da un mesetto, quello della riqualificazione di Piazza Luigi Surzo, un intervento di circa un milione di euro, quello della riqualificazione delle attrezzature sportive, sempre a San Tommaso e l'ultimo è l'accesso pedonale a Via Due Principati, quello di fronte al centro direzionale. Oltre a questi lavori, soprattutto nelle periferie e per la sostituzione per fabbricati pesanti, la settimana scorsa abbiamo approvato una massiccia manutenzione straordinaria di strade cittadine per un importo di 900 mila euro. Interverremo su dieci strade della città, soprattutto nelle periferie e nei quartieri periferici. Quindi questo è.